Se a comandare ci fosse stata una donna, l'idea di mettere in disordine con le bombe, creare polvere, l'avrebbe fatta impazzire. Poi figuriamoci fare grandi manovre, che la donna non ha l'enzima per farne pure quelle piccole. I maschi sono dei cavernicoli che fanno la guerra, che lottano, sono cose, sono verità fattuali. Allora parliamo di gossip, di Totti e la Ilani che si lasciano, perché noi di Bergamo invece ci divorziamo e risposiamo nello spazio di una pausa pranzo. Ma no, perché creiamo indotto presso gli studi legali, per questo Bergamo è la prima potenza mondiale economica e industriale.